L'ultimo atto dello scontro fra Lega e Mauro Febbo è compiuto. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio questa mattina infatti ha firmato il decreto con il quale ha rimosso dall'incarico l'assessore, assumendone temporaneamente le deleghe, cioè turismo e attività produttive. La decisione presa nel vertice fra il governatore e i leghisti ieri mattina è stata ufficializzata oggi e dovrebbe, il condizionale e d'obbligo, chiudere la crisi all'interno della maggioranza di centrodestra riportando il sereno a palazzo dell'emiciclo. Febbo dunque torna tra i banchi dei consiglieri di maggioranza con il ruolo di capogruppo di Forza Italia, partito dal quale si era autosospeso in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative di Chieti. Il caso Sbelli che ha portato al defenestramento perché l'ormai ex assessore scelse di non appoggiare il candidato leghista di Stefano per farlo soltanto al secondo turno portando avanti un progetto civico con Bruno Diorio. Febbo non rinnega quella scelta che gli è costata il posto in giunta. C'è stata questa richiesta forte da parte di un partito del maggior azionista della coalizione, credo che la politica la conosco, la so, sapevo quello che poteva succedere dopo la mia scelta, credo di aver fatto una scelta giusta, una scelta impegnativa, una scelta che per un pugno di voti non è andata a buon fine, andremo avanti facendo qualche altra cosa ma intanto aspettiamo, vediamo gli essiti. L'ultimo atto da assessore per Mauro Febbo ieri è stato il voto favorevole per la cessione da Arap alla società E2K dell'autoporto di San Salvo nel quale dovrebbe essere realizzato il polo logistico del colosso dell'e-commerce Amazon. Chiuso così il derby fra zona vastese e Val di Sangro che pure si era candidata ad ospitare l'insediamento. In meno di due mesi siamo arrivati a fare una manifestazione di interessi, quindi una pubblicazione, un bando e poi ad avere l'aggiudicazione, credo che mai sia successa così gente, peraltro per un'azienda importante, per un investimento di circa 250 milioni di euro, quindi una manovra finanziaria bella e buona, insomma in silenzio ho lasciato parlare gli altri, ho lasciato anche che ci fosse qualche momento di schizofrenia da parte di qualcuno, ma insomma alla fine l'importante è che il risultato ci sia stato e l'ho colto. Tornando alle questioni più strettamente politiche, ora non resta che attendere il mini rimpasto di giunta da parte del presidente Marsilio che dovrà redistribuire le deleghe. Il posto di Mauro Febbo dovrebbe essere preso da un altro forzista, i nomi in ballo sono quelli di Daniele Damario e Umberto De Annuntis che così passerebbe da sottosegretario d'assessore. Per fare le proprie considerazioni Febbo vuole attendere la fine dei giochi, solo allora si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Quando la storia sarà chiusa, completa, cioè ci saranno i passaggi, chiaramente mi sentirete dire ciò che credo debba essere detto e debba essere chiarito.